Tutti noi conosciamo il talentuoso Rosario Fiorello, ma avete mai visto le sue figlie? Sono realmente la sua fotocopia Per tre anni consecutivi, Rosario Fiorello ha affiancato Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo, occasione nella quale il comico, attore e conduttore ha potuto mostrare la sua maestria e capacità di coinvolgere il pubblico In effetti, lo spettacolo del teatro dell'Aristo non sarebbe stato lo stesso senza la presenza di Fiorello, Amadeus infatti ha potuto condividere questa esperienza con l'amico di una vita, il cui legame è stato percepito da tutto il pubblico italiano Rosario Fiorello, le figlie sono bellissime, Rai News, durante l'estate, i due sono stati paparazzati in vacanza insieme, in compagnia delle rispettive mogli, Susanna e Giovanna Entrambi infatti hanno messo su famiglia nel corso degli anni e amano passare insieme le giornate calde dei mesi estivi Fiorello in particolare è sposato con Susanna dal 2003 ed è padre di una figlia, Angelica Eppure, non è finita qui, il comico ha anche un ottimo rapporto con la primogenita di Susanna, Olivia, avuta dalla precedente relazione della moglie con Edoardo Testa Fiorello e Susanna, amore eterno ed intramontabile Rosario Fiorello e Susanna sono legati sentimentalmente dal 1996 Il loro amore li ha condotti poi ai fiori d'arancio nel 2003 e alla nascita della loro prima figlia Angelica nel 2006 Nel momento in cui la coppia iniziò a frequentarsi, Fiorello ebbe la possibilità di creare un rapporto particolarmente stretto anche con la prima figlia della moglie Olivia La ragazza, nata dalla precedente relazione di Susanna con Edoardo Testa, oggi ha 27 anni ed è la copia della madre Rosario Fiorello e sua moglie Susanna, letto quotidiano, Olivia, benché figlioccia di un personaggio televisivo particolarmente conosciuto, rimane ben attenta nella tutela della sua privacy È difficile infatti trovare delle immagini che la ritraggano in compagnia di Fiorello e della madre, sia su Instagram che in riferimento alle riviste di gossip Inoltre, la maggiore ha anche instaurato un ottimo rapporto con Angelica, figlia di Fiorello e Susanna La bellissima famiglia allargata di Fiorello, oggi, Angelica ha 15 anni e frequenta il liceo classico Dante Alighieri di Roma Contrariamente a quanto accade per la sorella maggiore, Angelica viene spesso paparazzata in compagnia dei genitori ed è apparsa in qualche sketch in compagnia di papà Fiorello Sulla giovane adolescente tuttavia, non si conoscono altri dettagli Grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao